Io, senza colpo ferire, li chiamerei, visto che, dai, sono ancora belli pronti, caldi, che stavano facendo Old Gen, direi che è il momento di chiamarli, dai. Allora, aspetta che devo inserire anche Frause. Eccoci qua. Così facciamo la chiamata a tutti e tre. Perfetto. Oh. Oh. Ciao, Fra. Mi senti? Sì, 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 aspetta un attimo. Bene arrivati. Sbagliato solo Cam. Ok, ma non ti preoccupare, tanto lo possiamo fare anche in talk. Allora. Ah, ok, perfetto. Sì, 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 vai sereno. Perché Mike mi sta trasmettendo Baldur's Gate? Non è la mia intenzione farlo. È nel muro. Da quanto tempo, Mike? Buonasera. Da quanto tempo? Devo capire come dare il video giusto. Non preoccupatevi, ragazzi. Tanto, allora, se mettete il video giusto, io vi metto anche in cam. Altrimenti posso tranquillamente non mettervi, come preferite voi. Oh, ha funzionato. Nice. E allora, e allora... Ha funzionato? Ha funzionato. E allora, ragazzi, direi che vi metto... Ecco il Flex, prima ancora di... Eccoci. Spera, perché loro il Flex non l'hanno visto. Eh, la facciamo. Eccoci qua. Aspetta. Un attimo, che... Oh. Intanto, come state, ragazzi? Mi hanno detto che stavate facendo Old Gen. No, siamo completamente overwhelmed, ma molto, molto carichi, molto, molto felici. Sì, siamo belli pronti. Cioè, siamo sempre pronti. No, che bello. Sono felice di vedervi qua, ragazzi. È stato... Sono state... Quattro... Diciamo, una settimana, diciamo, in realtà, meno. Facciamo tre, quattro giorni molto emozionanti, per quanto mi riguarda, per questa avventura. Dobbiamo parlarne approfonditamente. Sì, sì, sì. Aspetta che mi metto, così vedete anche me... Uhlala, mio Dio, cosa vedo lì? Sì, è una snake. A government agent on a mission. Nooo. Vabbè, ha giocato in italiano, ovviamente. Eh sì, è, perché metto anche la mia cam. Io l'ho giocato in italiano. Eh, guarda, ti sei voluta un po' male, giocando lì. Ma me l'hanno consigliato fortemente, perché mi hanno detto, Sara è iconico. Giocale un italiano che è iconico. È molto iconico. Eh. Snake, colonnello, riesci a sentirmi? Esattamente. No, la peggiore, ragazzi, era Sniper Wolf. Cioè, mi dispiace. Proprio con la doppiata peggio era Sniper Wolf. La wife fu distrutta così. Il colonnello e Sniper Wolf sono abbastanza drammatici. Sì, sì, sì. Ci sono dei momenti dove, aspetta, Snake, io devo prendere questo fucile a spararti. Mi dispiace. Però, cioè, ci sono quei momenti proprio dove dici... Ah! Poi c'è stato anche un momentino che mi ha proprio rotto il climax. Il miglior doppiaggio dell'epoca by far, eh? Sì, no, all'epoca, sì. Mi ricordo, doppiaggio fatto ai B-Rod, addirittura, cioè quello di italiano. Ma vi dirò. È una roba importante. Sommato non è così male, perché io vi ricordo che c'è un motivo, se io ho recuperato Metal Gear Solid adesso, io metto le mani avanti, perché infatti un sacco di gente mi fa ma come curo Blind Run su Metal Gear Solid? Vuoi dire che tu non l'hai mai giocato? No, non l'ho mai giocato. Ma come mai? Com'è possibile? Sei una gamer, bla bla bla. Raga, io sono una PC gamer da quando ero piccola. Io sono sempre stata PC gamer. Poi avevo la PlayStation, quindi ho giocato per dire i Final Fantasy, di cui ero super fan, però i miei non me li compravano i giochi sulla Play perché avevo il PC. E quindi ogni tanto mi prendevano un gioco per PC che costavano meno. Eppure ti posso dire una cosa? Io la prima partita su Metal Gear Solid l'ho fatta su PC. Wow. L'hai fatto? Era su PC all'epoca. Sì, c'era. Sì? Sì, sì. Quello che ti ho fatto vedere. Era esclusiva. Ah, la tua copia è PC? Eh, sì. Però... Sono sempre stata convinta che era esclusiva a Sony, pensa. Ma lo è stato però per tanti anni, ho sbaglio? In console PC, però il fatto è questo. Allora avevo un'erronea convinzione. In Giappone, come saprai, forse no perché appunto è una roba molto console, hanno sempre avuto una certa filosofia di re-release dei giochi un po' con espansioni e patch aggiunte. Come Monster Hunter col G-Rank che aveva Freedom, Freedom Unite, Monster Hunter 3, Monster Hunter 3 Ultimate, eccetera. In realtà la Metal Gear saga ha sempre fatto la stessa cosa. Metal Gear Solid ha avuto poi l'uscita di Integral che includeva altri contenuti e così via, che è arrivato su PC. Substance è arrivato su PC perché è la versione espansa del 2, Substance e in company, in company. Ah, ma quindi per assurdo la versione PC è la versione più... cioè con cose più cose? Sì, praticamente. È la versione praticamente con tutto quello che è uscito nel tempo su console. Esatto, ma still non è la cosa migliore che puoi giocare purtroppo perché ci sono un po' di difettucci, un po' di problemacci che tendenzialmente rendono purtroppo non di meno la versione console la migliore. Ok, beh, anche per quanto riguarda la giocabilità ragazzi perché poi approfondiamo anche il discorso gameplay. Io ho pianto lacrime a mare, io ho sudato sangue, io ho sudato sangue, io ho sudato sangue. Ossia? Ma che difficoltà hai giocato? Eh no, io ho specchiettato un pochino, sono stato a guardare. Io ancora no, io devo vedere tutto. Ragazzi, io ho giocato in normal, cioè alcune fight sono state veramente veramente difficili. Tipo quella col Metal Gear Rex? Mio Dio! Ok, ok. Vabbè, quella deve essere tosta. Madonna, raga, ma allora, diciamo che è stata molto complicata, è frustrante. Finché non ho effettivamente capito che cosa dovevo fare, ci ho messo diversi try. Cioè ci sono volute diverse prove. In blind non c'è niente di sbagliato. Ok, no, perché io l'ho trovata molto frustrante quella. È un puzzle. Eh, esatto. È un puzzle. Ci ho messo un po' per capire. Sì, sì. E poi, no, raga, la cosa più frustrante in assoluto a mani basse è stata la parte finale dell'inseguimento con Liquid Snake. Non riuscivo a sparargli in faccia, continuo io, continuavo. a cercare di sparare, ma non ci riuscivo, era complicatissimo. Quello perché c'è una PC gamer. Eh, vedi. Sì, probabilmente è per quello. Dite? La ESC. Ma dite? Anche per quello, sì, sì, sì. Principalmente per quello. Ma voi riuscivate a sparargli bene in faccia? Sì, ma non è una skill issue, nel senso è una gimmick, alla fine, o riesci o non riesci, però sì, ci si riusciva. Non era comunque particolare, eh. Sono impazzita con la parte lì, cioè, proprio, che continuavo a rifarle, a rifarle dello lì. Che morivo, che mi mancava poco così, dalla fine, appunto, del combattimento, chiamiamolo. E poi doveva partire la cazza in finale, in teoria. Mi mancava poco così e tutte le volte morivo, in teoria. Sì, perché io non lo sapevo, ero in blind. Cioè, l'ho capito dopo che continuava a morire a due secondi prima dalla fine. Quindi, ecco, quella parte è stata decisamente frustrata. Ho la chat che sta facendo già domande. Ma per seguire la storia è meglio iniziare dal 3. Detto ciò, possiamo continuare. Devi raccontarci tutto. Sì. Io ho bisogno di sapere ogni cosa, poi usaci come trivia, come wiki. Tipo, guarda, tranquilla, almeno, Frozen più sul primo, tu, è la foto di Pandora, puoi aprire. Io, come ti ho detto, sono sul primo e secondo. Ok, ok, ok. Quindi, adesso, ti dobbiamo costruire, io ti costruirò un certo percorso. Molto, molto importante. Esatto. Allora, siamo qui. Ok, allora, partiamo dal presupposto che, quando io ho detto, ragazzi, per mia cultura videoludica e perché so che è una saga amata da tanti, vi piacerebbe recuperare Metal Gear Solid. Cosa faccio? Da quali parto? Me l'ho detto tutti, lascia perdere i primi due, parti dal primo per PlayStation 1. Va bene, hanno fatto bene, purtroppo, necessariamente... Allora, il primo, Metal Gear, è veramente invecchiato male e soprattutto sarebbe stato necessario, paradossalmente, molti, ma non è vero molti, alcuni saranno in disaccordo, ma devono guardare in faccia la realtà, sarebbe stato quasi necessario avere una guida a fianco per poterlo giocare in maniera divertente e efficace. Cosa che quindi puoi vivere come background del gioco. Ricordati questo, il fondamento della storia... Tu conosci banalmente, in maniera molto superficiale, la storia dei primi due Metal Gear o zero? Allora, qualcosa che ho capito dal primo capitolo su PlayStation 1, quindi che, se ho ben capito, ti riassumo quello che ho capito giocando il primo su PlayStation. Dei vecchi, ambientazione Zanzibar, Solid Snake si ritrova a dover combattere contro Big Boss, non ho capito se lì scopre che è suo padre o se già lo sapeva che era suo padre, ok, quindi lo scopre. Se proprio vogliamo fare un trivia, ricordati che, ricordati, ti faccio scoprire che meglio di bene o male qualunque autore io abbia mai incrociato in vita mia, Metal Gear è un'opera che ha diversi retcom. Cioè a un certo punto, visto che lui voleva chiuderla più volte e non gli è stato concesso perché stava diventando sulla cresta dell'onda dell'industria, ha detto va bene, per ampliare la storia ho bisogno di fondamenta che adesso non ci sono. Quindi per esempio che Big Boss fosse il padre genetico di Solid Snake lo si scopre in Metal Gear Solid ma Snake dice che lo scopre in Metal Gear, ma non è vero. Non è vero. Quindi però funziona perché è un gioco dell'86, vabbè. Certo, quindi sì, l'avranno giocato magari in pochi. Però diciamo che canonicamente lo scopre quando lo affronta infine, esattamente. Quindi scopre che è suo padre e lì io non ho capito se Liquid Snake era già parte dei primi due capitoli. Io penso di no. Eh esatto, infatti io ho pensato di no perché lui non sapeva nemmeno che fosse suo fratello che poi io ho speculato un attimo su sta roba perché... Allora c'è una frase iniziale che mi ha fatto subito dire che non sono solo fratelli, sono copie genetiche molto probabilmente. Infatti dopo viene la parte finale dove lui ti spiega di essere quello con i geni recessivi. Che poi io lì già avevo capito che non erano geni recessivi. Ma da subito, perché infatti io continuavo a dire ai ragazzi l'esempante ribrio, l'esempante ribrio. Ho detto raga, ma cioè Liquid Snake non hai geni recessivi. Come possono essere geni recessivi che... E' un mondo incazzato, fortissimo, immortale. L'ho ucciso cento volte e continuo a tornare. Mi dà, cioè, il combattimento in corpo a corpo dove loro due fanno a pugni, ragazzi. Cioè, un pugno di Liquid Snake mi toglieva così di vita. I miei pugni erano dei pugnetti ridicoli tipo Catfight. E infatti facevo ai ragazzi, ma scusate, adesso io posso capire che il cattivo, no? Il villain deve essere sempre quello che ha la barra della vita più lunga. Però, visto che comunque mi pare di capire che Kojima ha reso il tutto abbastanza realistico, e dopo vorrei parlare con voi anche di questo, per le torture e bla bla, visto che ha reso il tutto abbastanza realistico, a me sembra strano che Liquid Snake, che ha i geni recessivi, faccia così tanto danno rispetto a Solid Snake. E infatti poi quando nella frase finale dice ah, ha vinto quello con i geni recessivi, cioè ha vinto lo sfigato, fra virgolette, io ho detto, eh, vabbè, dai. Era abbastanza telefonata, però è stata comunque una bella sorpresa. Mi ha fatto piacere. Sono quelle cosine che dici, ok, ho letto fra le righe. Hai letto fra le righe, guarda, in questo la Metal Gear saga ne ha ragnatele fitte, 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 dall'inizio alla fine. E poi mi hanno detto che tante cose le capirò molto più avanti, perché adesso io ho giocato solo il primo. Quindi poi dovremmo giocare. Infatti, io non posso farti da moderatore, ma stai molto attenta alla chat. Non la leggo, non la leggo, ragazzi. No, no, mentre gioco loro lo sanno. Io di solito li leggo sempre, ma mentre la gioco, cioè ogni tanto butto l'occhio giusto per vedere che sia tutto ok, però non la leggo mentre gioco. Quello che può dare in considerazione è che sono gemelli genetici, quindi è vero, Solid Snake è il protagonista dei primi due Metal Gear, ma Liquid Snake esisteva, era nato, era un ragazzo della stessità. E che il punto è che se loro sono figli di Big Boss, però tecnicamente figli, cioè sono un esperimento genetico dei geni di Big Boss, cioè praticamente non si può neanche dire che siano padre, figlio, fratello, cioè sono dei cloni praticamente, dei cloni modificati. Praticamente sì. No, cloni modificati, sì, certo. Soldati genetici come li chiamano loro, quindi diciamo che questa famiglia è un po' particolare. Chiamiamo la famiglia. Sì, 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 ma appunto. Sì, che poi, allora, il messaggio centrale del gioco, di questo vorrei parlare con voi, perché io l'ho finito salvando Meryl, mi hanno detto che c'era una possibilità di altro finale, non lo so. Che devi vederlo. Mi hanno detto come si ottiene l'altro finale, è solo, è semplicemente un, fai questo o fai questo. Ok, dimmi pure, tanto ormai l'ho giocato, non penso che lo rigiocherò. Devi arrenderti alla tortura. Ah, perché se me rendevo moriva Meryl? Sì. È finito, però ti consiglio, cioè ti avrei consigliato, però non lo giochi, che è appunto di fare anche il finale con Otacon. Devi guardarlo solo. Magari me lo guardo, mi guardo il video, sì. C'è la guarda del ground con Otacon. Esatto, ti spiego una cosa importantissima. Ok. Metal Gear Solid 2 non sceglie un finale, li rende canonici entrambi. Ok, quindi sia che lei muore, sia che lei non muore? Sì, solo che giustamente per matematica tutto quello che accade in entrambi i finali è vero, ma lei non muore, perché non puoi unire. Certo, infatti, esatto. Quindi lei non muore, ma Otacon e Solisnake sviluppano un rapporto che vedi nel finale. Otacon tra l'altro è il mio personaggio preferito, io amo Otacon alla follia. meraviglioso. Io amo Otacon. Cioè, da quando è spawnato, dopo che ci ho passato i primi momenti, ho detto, no, questo è il mio personaggio preferito in assoluto. Vedrai allora. E tu pensa che nel finale di Otacon scopri il nome proprio di Snake? Non è David? Ah, si sa, si sa, anche con Mary lo dice, sì, 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 infatti ho pensato, che carino, ma se l'ha inventato in quel momento, però, se l'ha inventato lì di sana pianta. Non si. Ok, ok, io speculo, se sono robe spoiler, voi non rispondetemi. Lo scoprirà. Come vede? Effettivamente Otacon avrei piacere a giocare al 2. Tanto, tanto, cioè, personaggio che spezzava spesso l'atmosfera un po', a volte drammatica, faceva ogni tanto battute, mi faceva ridere, anche se mi ha rotto tantissimo il climax dopo il combattimento finale con Sniperwolf, quando Solid Snake si gira e gli dice, te lo dirò, quando ci rivedremo, no? Quindi fa, ma per quale motivo combatti? Te lo ridò quando ci rivedremo? E Otacon, ok, no, no, fa proprio fa, ok, mi sembrava, sai il doppiaggio di, tipo, vai, 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 hai presente, Francesco? romperemo un po' Ma proprio, ma ha rotto totalmente il climax, perché ha fatto quel, ok, sembrava, non so se hai mai visto, tomba che ha fatto Alex Lariete, ok, va bene, basta che la smetti, no, ma infatti, guarda, il doppiaggio è iconico, in quanto appunto è strano, ecco, cioè, non è che brutto è strano, è particolare, anche brutto, però, anche brutto, sì, anche brutto, diciamolo, anche brutto, no, cioè, in inglese è molto, molto, molto bello il doppiaggio, anche perché la voce di Snake è veramente in amore, è proprio sexy. Tu mi consigli di rigiocarmelo in inglese? È bello, in inglese, sì, assolutamente, vale tantissimo, cioè, infatti io giocai prima quello, e successivamente su PlayStation giocai quella, la versione in italiano. Perché io ho avuto il pallino del cavolo, però, chissà com'era quel doppiaggio in inglese, chissà com'erano i momenti. Sì, i momenti ovviamente, pure la morte di Sniper Wolf, molto più intensa, a parte che è stato, probabilmente la morte di Sniper Wolf è stato uno dei momenti, dei primi momenti in cui ho pianto per un videogioco, in un videogioco. Davvero? Sì, anche perché è molto bella. Pianto anch'io? Nonostante siano passati 25 anni? Cioè, pensa quanto è vecchiata bene. Soprattutto, c'è una cosa molto bella, anche perché voglio dire, adesso siamo, come ti ho detto anche per messaggio, praticamente siamo lato lore, lato appunto... Esatto, tu sei il gameplay master, e Michael lore master. Per quanto il gioco, cioè per quanto riguarda il gioco, anche le tematiche, è interessante, allora, Metal Gear Solid, mi interessò per un particolare aspetto, ci hai notato, perché quello è molto particolare. Allora, vabbè, oltre a essere io, ex militare, quindi diciamo, l'ho apprezzato, diciamo, pure successivamente. Avevi il background giusto per apprezzarlo. Sì, no, è venuto successivamente, però rigiocandoli, diciamo, l'ho apprezzato. È particolare una cosa, che Metal Gear Solid, si è notato, è, tutta la saga di Metal Gear Solid, è praticamente, è un inno contro la guerra, sì, ma non è un gioco antimilitarista, è particolare come cosa. Ok. Nel senso che... Sì, approfondisci. Perché comunque, se ci fai caso, prende una tematica che comunque negli anni 90 era molto importante, quella del disarmo nucleare dopo la guerra fredda, e quindi la domanda... Sì, infatti spiega proprio di tutte le testate nucleari che ci sono ancora inattive. che fine hanno fatto queste testate, chi ce le ha in mano, e quindi lì appunto, tutta la roba su che succede in background, chi le ha acquisite, chi le ha prese, chi le ha riutilizzate, persone che hanno lavorato i programmi nucleari, adesso appunto possono essere da qualche altra parte, e possono magari lavorare per qualcuno che non sia uno stato, quindi sia appunto un'ente terroristica, un'organizzazione di un altro tipo, ed è questo il caso appunto di Metal Gear Solid. La Fox Sound, esatto. Esatto. Ma quindi tu dici che Kojima stava facendo comunque una critica social, come fa sempre... Metal Gear è una corte che critica la guerra, e mette appunto l'obiettivo su questo problema del chi c'è a sviluppare una guerra, chi la vuole fare e quali sono i motivi. E i soldati in Metal Gear sono visti sempre come un mezzo. Cioè nel senso che ti fa vedere che chi fa la guerra... Sono quasi degli innocenti loro, sì. Innocenti no, perché comunque ci stanno di mezzo. Sono buttati dentro però, sì. Sono buttati dentro, ma chi li comanda è... Chi li comanda è quello che praticamente è il cattivo vero, diciamo. Sì, sì, sì. Occhio no, stavamo... Siamo passati alle tematiche. Stavo dicendo che appunto... Ok, la critica sulla guerra. ...è un gioco contro la guerra, ma non è antimilitarista. No, no, no. Esatto. Perché appunto c'è molto del legame tra i soldati, il cameratismo, determinati aspetti e molte cose che comunque ti fanno crescere l'empatia, ti fanno sviluppare empatia e comunque comprensione verso persone che magari possono essere inizialmente odiate o viste in una certa maniera. Vedi per esempio la stessa Sniper Wolf. Sniper Wolf è appunto un nemico, solo che appunto ti va tutta quanta la tematica della sua storia, del come... Bambina cresciuta in mezzo alla guerra, praticamente disperata. Ho visto la mia vita attraverso un mirino. Cioè sono appunto... Cioè ti pone l'accento sul trauma della guerra che passa anche appunto tra questi soldati e queste storie e chi appunto fa la guerra è qualcun altro, è chi più grosso, è chi non sta sul campo di battaglia. E poi vabbè, andando avanti pure nei Metal Gear, diciamo, è un po' come... Te lo posso riassumere. Se vuoi fare la pace preparati alla guerra. Nel senso che... Sì. Nel senso che comunque è quasi un male necessario in determinati casi, ma appunto chi poi ci va a pagare sono le persone, le varie pedine, tra virgolette, che ci stanno in mezzo. Infatti capita molto spesso, specie all'inizio del gioco, quando magari muore la gente della DARPA o altri personaggi, tipo quello legato alla bomba che mi dimentico sempre come si chiama. Ricordi al C4. Aspetta, dici... La prima volta che incontri Revolver Ocelot. Ah, sì, sì, sì. Che infatti pure la prima cosa che ti dice guarda che ti stanno utilizzando. Sì, che ti stanno usando. Sì, però Solid Snake usato. Baker, Baker. Troy Baker. Baker, esatto. Mi dimentico sempre il nome. Questa appunto, secondo me, è una delle tematiche che personalmente mi è piaciuta di più dei Metal Gear. Ti ho detto, è particolare il fatto che, appunto, contro la guerra, ma esalta, diciamo, il militarismo facendoti conoscere la storia dietro le persone. Vedi, tu mi hai fatto notare un aspetto che non avevo preso in considerazione, ad esempio. Perché è vero, ci sono delle forti frasi. Me ne ricordo una, ad esempio, dove... Non ricordo effettivamente chi la dice, però dicono proprio... È perché, appunto, devi capire che in questi conflitti... Cioè, noi li vogliamo, questi conflitti, perché noi ci guadagniamo da questi conflitti. Siamo noi che vogliamo fare la guerra. Non ricordo il nome adesso del personaggio, era un personaggio minore. Però... Lo dice anche Becker, alla fine. Anche Becker dice... Siamo noi che ci guadagniamo. Esatto, siamo noi che ci guadagniamo. Infatti, ti fa vedere... Infatti, Metal Gear, in particolare il primo, ti fa vedere tutto il background che ci può essere dietro un conflitto o la preparazione di un conflitto. Chi ci guadagna, perché lo fa, e soprattutto in che modo avviene questa escalation e come si è generata. E lì, appunto, te la giustifica come il fatto del disarmo in seguito alla Guerra Fredda, che appunto è stato un... Era una tematica molto importante all'inizio degli anni 90. E ancora adesso, se ci pensi, molto attuale. Sì, ma ancora di più adesso, perché comunque, essendo del primo... del 97, il primo Metal Gear, quindi comunque ci stanno lavorando da prima, era ancora più fresca, diciamo, come tematica, ecco. Io mi sono concentrata di più, in realtà, sull'altra forse tematica, che è quella invece del... di Solid Snake, che non ha un passato, sia lui che Liquid Snake, che non hanno un vero e proprio passato, e quindi continuano a rimuginare sul fatto di non avere un passato per costruire il loro futuro. E secondo me il gioco ti vuole proprio far capire ehi, non ti serve il passato per avere un futuro, ti serve il presente. Cioè, non lasciare che il tuo passato determini chi tu possa diventare nel futuro. Esatto. Dovresti mantenere molto forte questo concetto mentre giocherai a Sons of Liberty, che è il secondo. Pallo. Ok, sì, no, ma... Cioè, sul secondo si va molto su quel tema. Perché se ci penso è una tematica fortissima perché è vero che noi... Cioè, tutti noi come esseri umani siamo definiti anche dal nostro passato perché è il nostro bagaglio di esperienze, quello che ci ha formato, va bene. Però il continuare a rimuginare su traumi passati, su cose che abbiamo vissuto non ti permette di vivere il presente e di sviluppare il tuo futuro. E secondo me è questo il messaggio molto forte che Kojima vuole dare alla fine. dove parla della vita, dell'iniziare a vivere, dove appunto Solid Snake dice io sono David, mi chiamo David. È come se lui nascesse forse in quel momento, no? Capisse che effettivamente può avere una vita a prescindere dal fatto del non avere una famiglia, non avere un passato, no? Insieme... Vabbè, io ho fatto il finale con Meryl quindi lì parla di proteggere lei, no? E del vivere insieme a lei. Però mi è molto piaciuto perché... Quella è una maniera di vedere il futuro in una maniera diversa da quella che ti sei prospettato fin da quando sei nato o che ti hanno prospettato fin da quando sei nato. Sì, perché pensate a Liquid Snake, no? Lui fin dall'inizio del gioco poi io adesso non so che cosa lui ha vissuto anche lì mi hanno detto scoprirai bene dopo saprai più cose su Liquid Snake, ok? Vabbè, già diciamo che un po' spoilerina come affermazione Vabbè, qualcosa me l'hanno sparata perché io stavo dicendo però ragazzi insomma Liquid Snake per tutto il gioco non fa altro che continuare a pensare al fatto dell'essere quello con i geni recessivi che poi abbiamo scoperto che non lo era del fatto che suo padre Big Boss non suo padre fra tante virgolette lo disprezzava del fatto che lui pensava che Solid gli avesse portato via tutto e lui non ha mai realmente vissuto perché continuava esatto capito a rimuginare su queste cose questo senso di vendetta questo devo riscattarmi questo senso di riscatto incredibile che non gli ha mai fatto vivere la sua vita almeno questo è quello che mi è passato dal primo capitolo e quindi anche lui parlare di una vita precedente di Liquid e Solid Snake no vabbè io parlo al presente cioè quello che ho visto appunto nel primo capitolo cioè lo vedi che è costantemente ossessionato da questo desiderio di riscatto e di vendetta sì sì quello sì dal passato è costantemente ossessionato dal suo passato che non ha perché ha diciamo dalle informazioni che sa del suo passato che lo tartassano ad un livello che lo vedi che diventa proprio una vera e propria ossessione tant'è che lui sembra quasi pazzo sembra quasi un folle per tutto il tempo perché lui ha solo direi devo rovinare Solid devo rovinare Solid cioè esatto capito lui solo questa devo rivendicare il ruolo di mio padre devo essere il nuovo Big Boss esattamente devo rivendicare il ruolo di mio padre che un padre che mi disprezzava devo creare Outer Haven anche lì questo Outer Haven ecco sono qua vai esatto io volevo chiedervi tantissime informazioni su Outer Haven perché non avendo giocato i vecchi due capitoli quando parla di Zanzibar e del fatto che Big Boss voleva creare questo Outer Haven quindi questo paradiso di che cosa parlava allora questa è una di quelle realtà che verrà sicuramente approfondita dopo di attenzione non aspettarti una risposta concreta adesso ma c'è un motivo per cui viene citato come diciamo nome in Metal Gear Solid sia fare l'occhiolino a chi aveva l'età giusta per giocare Solid dopo i primi due sia perché effettivamente è un tema importante Outer Haven era il nome della diciamo fortezza slash ambiente ed ecosistema militare che Big Boss aveva realizzato come denuncia nei confronti dell'essere strumenti di un governo lui voleva rendere la vita dei soldati un paradiso di guerra era un pazzo criminale furioso che voleva distruggere il mondo in nome del male che gli stati hanno fatto a loro ma non puoi sapere niente no no però mi hai dato un aspetto su Big Boss che mi fa dire wow ok ok quindi anche lui non stava proprio benissimo cioè a livello di desideri infatti l'incipit di Metal Gear Solid ma della Metal Gear Saga è che Big Boss il più rinomato famigerato criminale di guerra del mondo è stato ucciso dal figlio suo stesso in qualche modo una creazione esatto che non ha accettato la sua visione del mondo e contemporaneamente ha obbedito a un ordine sì che poi appunto Solid Snake è il soldatino è proprio il soldatino il soldato sì obbedisce a qualsiasi cosa viene preso in giro gli mentono dalla mattina alla sera continuamente l'unico momento in cui non ho visto cioè Solid Snake seguire gli ordini è stato sul finale quando c'è il il momento di Naomi che Gray Fox chiede a Naomi di di spiegarle che lui in realtà non era davvero suo fratello ma che aveva ucciso i suoi genitori no e gli dice diglielo e lui invece lì no lì lui gli vedi la sua volontà dove non vuole ferire ulteriormente Naomi e le dice una bugia e fa benissimo io ero lì che stavo applaudendo in quel momento perché ho detto oh finalmente un passo in avanti esatto finalmente inizia ad agire sempre in limiti molto rigidi però fino a lui lui obbedisce agli ordini ma guarda che quello è allora Solid Snake è lo stereotipo diciamo inizialmente il soldato il soldato fa il soldato esegue va avanti spara e esegue cioè non quello è il soldato ed è quello per il quale vieni creato diciamo Solid è l'utopia del soldato perfetto anche per questo ed è Liquid invece in contrapposizione è si ribella lui è lo stesso ma diciamo di un altro tipo perché eh ma sì liquid spoiler facciamo bisogna fare un po' attenzione ho capito dove vuoi andare a parare sì ma Liquid Snake è una cosa un po' più capricciosa complicata complicata esatto ok ok capirò allora andando avanti sicuramente capirò e invece una domanda te la faccio io dimmi le sigarette le usate sì solamente per vedere gli infrarossi ma solo ah ok sì no ma perché me l'ha detto mi sembra Merrill dopo tipo la terza volta che continuavo a esplodere con quei laser ecco molti dicono che il gioco non ti guida in realtà il gioco ti guida tanto ti guida tantissimo se sei attento ti guida ok io mi sono sentita abbastanza guidata ti dico l'unico momento dove veramente mi sono sentita persa è stato combattimento finale con il rex ma ci stava appunto mi diceva anche Mike è fatto proprio per farti sentire un po' la frustrazione no infatti lì troppo zero guida cioè mi sentivo da sola con me stessa e i miei continui fallimenti cioè che poi madonna raga un senso veramente di mi sono veramente sentita scarsa devo dire non mi capita spesso di sentirmi scarsa quando gioco ai videogiochi io su Metal Gear mi sono sentita davvero scarsa ragazzi l'hai giocato in maniera autentica esatto corretta io ho avuto un momento dove davvero ho detto sono felice di averlo giocato adesso che sono adulta e ho molta pazienza perché se l'avessi giocato da bambina io probabilmente non sarei mai riuscita ad andare avanti cioè avrei quittato probabilmente istantaneamente e sì è davvero complicato infatti ho pensato ricordati che un'abitudine che abbiamo perso perché giustamente non c'è la base per sfruttarla o farne proprio azione è leggere i manuali tu non l'avevi letto perché siamo nell'epoca moderna già leggere il manuale di Metal Gear Solid ti aiutava parecchio all'inizio oltretutto i manuali della Metal Gear saga sono meravigliosi però è una cosa vedi che io non ho mai fatto perché io ad esempio leggevo tanto giochi per il mio computer di Game Machine leggevo le riviste di settore ma quando c'erano le parti delle soluzioni io glissavo cioè proprio le superavo non sono mai stata una che andava a leggersi le soluzioni nei manuali o così sono per i deboli no non è forse sono sempre stata molto orgogliosa no però cioè non è vero che le soluzioni sono per i deboli però io sono sempre stata una bambina estremamente orgogliosa sto migliorando adesso in età adulta dove mi faccio consigliare mi faccio aiutare però da bambina ero tipo no o lo faccio come dico io o capisco io da sola come superarlo o non lo supero quindi probabilmente conoscendomi e conoscendo che ero comunque molto orgogliosa e molto poco paziente da bambina non credo sarei riuscita a giocare a Metal Gear Solid ma io non parlavo delle guide strategiche no no del manuale di gioco dei pulsanti la guida ai pulsanti non l'avrei mai letto eh vedi quella è una cosa che è andata persa quella non l'avrei mai letto ti faccio una domanda dato che non l'ho visto nella tua live sai come Mantis si come l'hai vissuto a parte come l'hai vissuto inizialmente male dopo benissimo ok ma allora io ricordo con la playstation c'era la maniera per appunto per superarla quella parte ma sul pc non mi ricordo staccare comunque il pad e riattaccarlo in un'altra porta cioè che all'inizio ho provato a fare così in realtà dovevo uscire dal menu e mettere controller 2 cioè diciamo che ok 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 sì io inizialmente ho proprio provato a staccare e infilarle in un'altra porta quando ho visto che non funzionava sono uscita ma devo fare originariamente poi c'è anche un altro metodo come diciamo situazione di safe però di salvataggio qualora proprio non si potesse però purtroppo quello si è perso in particolare con l'epoca pc slash remaster eh lì appunto poi cambiano ovviamente i supporti e giocandolo su pc quella parte lì un po' la perdi però in realtà cioè comunque l'ho fatto ed è stato geniale cioè quando quando l'ho visto ho detto oh mio dio ma sta cosa è pazzesca tra l'altro la chat si stupiva perché mi diceva ma tu non l'hai mai vista sta roba io no ragazzi io non la sapevo sta cosa qui cioè dimmi c'è un altro easter egg di quella parte che purtroppo si va a perdere su pc è presente la parte in cui proprio un incontro che ti dice adesso provo a leggere nella tua mente e lì ti fa praticamente una descrizione di quante i saves esatto ma se tu sulla memory card della playstation avevi giochi altri giochi conami ti diceva cosa avevi giocato no bello hai giocato a questo hai giocato a questo hai giocato a questo oh you like Castlevania si ti piace questo e si ti inizia a dire tutti i vari giochi a cui stavi giocando perché leggevi salvato oggi dalla memory card bellissima sta cosa madonna Kojima su ste robe veramente geniale ti faceva muovere il controller a terra perché lo faceva vibrare sì ma la roba del braccio dei nanoidi ma bellissimo ma quanto me la sono goduta che ho preso proprio il pad me lo sono messo sul braccio ho fatto a iniezione iniezione di nanoidi incredibile sì sì quelle robe lì sono bellissime la parte della tortura parliamone ok quella l'ho vissuta male ma come? malissimo perché ho avuto male al braccio fino al giorno dopo e giocavi a normale a normale? a normale? a normale è stato a inveire proprio contro Kojima è stato il momento in cui ne è stato a inveire contro Kojima tipo sei un sadico ma sta non hai torto c'è una situazione che adesso non vado a descrivere in cui ricordo è l'unica volta della mia vita in cui ho sentito dolore fisico forte giocando ossia una certa cosa in un certo Metal Gear era la massima difficoltà molto massima cioè oltre quello per cui era uscito in Giappone mi ha fatto male fisicamente ah lì lo facevi io con la moneta con il righello no ragazzi io da pc gamer quella parte lì vi dico l'ho odiata proprio perché sì io ogni tanto gioco col pad però il mio supporto preferito rimango nel mouse e la tastiera quindi ho meno l'abitudine allo schiacciare i tasti in quel modo io quella parte lì l'ho vissuta male cioè ero lì che continuavo che mi facevano guarda che ti puoi arrendere io non mi interessa non mi interessa che poi avevo capito che appunto dovevo salvare Meryl quindi per me il mio pensiero era solo devo salvare Meryl quindi anche se mostro a premere i pulsanti velocemente vedi io anche se avevo male al braccio eh vabbè sì è vero che te fai rhythm game te sti di quella pasta lì no quella per me è proprio facile è la mia nemesi pure se è controller io comunque col medio lo premo cioè col medio? sì col medio sono velocissimo a farlo è lì di ritrovare sì col medio premi il tasto no io col l'indice effettivamente effettivamente il medio è più rapido del è vero la vera tattica è mandare in vibrazione il muscolo esatto è vero tipo così e invece vedi io facevo così e sono più lenta con l'indice ora che me lo fai notare dovevo farlo col medio oppure con la moneta il metodo della moneta cos'è il metodo della moneta? il metodo della moneta mandi proprio in vibrazione il pad ma lo mando sì ma fai 250 però ecco vedi che ho ancora male alla spalla dall'altro giorno cioè adesso che l'ho fatto ah così con la moneta mandi avanti dietro avanti dietro prendi una pressione un avanti una pressione indietro cioè avete le tecniche lo tieni poggiato qui tieni poggiato un righello sopra prendi velocissimo pensato no però veramente raga io cioè vi giuro adesso l'ho fatto ho provato una fitta qua alla spalla perché sono passati due giorni da quando l'ho fatto io ieri avevo ieri mattina avevo ancora male alla spalla adesso ho fatto sta roba mi è tornato il dolore qua cioè è un dolore che mi è partito dalla mano per risalire e arrivare qui e io infatti ho iniziato a inveire tipo Kojima sei un sadico sei una brutta persona con la chat che mi insultava ma hai fatto apposta lui vuole far sentire il dolore che prova a me esatto ma io l'ho sentito l'ho sentito davvero io ho incazzatissima in quel momento ma perché stavo provando dolore fisico ed ero sconcertata ero tipo no raga ma sta roba no non esiste quindi sì ho provato dei momenti molto emozionanti devo dire adesso a mente fredda posso dire che me la son goduta anche le emozioni di frustrazione che ho provato sia nella battaglia contro il Rex perché non capivo cosa dovevo fare sia nel momento della tortura effettivamente sono dei bei ricordi ora che è passato che è passata qualche ora qualche giorno perché dimmi dimmi sono molto contento di quello che stai raccontando ho una speranza bisogna stare molto molto attenti da esprimerla perché non posso dirti a cosa mi riferisco ma qui hai provato una forma di frustrazione da gamer in quello che è appunto questo puzzle stealth che è Metal Gear fighissimo è un tipo di fastidio più mi ha fatto sentire incapace la cosa mi ha dato molto fastidio e questa è una cosa che comunque genericamente ci sta in un videogioco eccetera quello che io vorrei che accadesse in Metal Gear Solid 2 è che tu possa un giorno dirmi ho provato una tremenda frustrazione ma su un argomento diverso che non posso dire esatto ho già capito che così intendi tempo al tempo non si può dire nulla la cia deve stare molto attenti va bene va bene va bene allora poi ve lo dirò tanto poi ci risentiamo anche dopo il secondo capitolo perché no io vi dico è un'esperienza che io consiglio a tutti quelli che non hanno mai giocato in Metal Gear Solid perché secondo me è invecchiato molto bene ci sono alcuni combattimenti che magari ecco non sono invecchiati benissimo l'ultimo vi dico la parte quella finale che voi mi avete detto ma perché sei pc gamer per me quella parte finale dell'inseguimento è la parte invecchiata peggio ve lo dico però voglio dire a fronte di tutto quel che ti propone il gioco è incredibile è allucinante cioè l'ha avuto Metal Gear ti ti resta conto che ha introdotto un sacco di meccaniche che poi sono diventate canoniche o comunque riprese da altri giochi per esempio una delle cose più importanti del gioco è il behavior dei nemici il fatto che tu puoi influenzare le dinamiche del movimento dei nemici tipo con i passi ah quella è una roba che ha introdotto di bussando diciamo allora l'unica cosa confrontabile per quanto riguarda il behavior della Yi all'epoca potevano essere i primi Hitman per dirti cioè quello era l'unico confronto diciamo che potevi fare quella mi manca ad esempio come saga è un lì un po' più particolare come cosa però appunto c'erano varie meccaniche appunto vedete i passi bussare fare rumore su materiali di un determinato tipo e quindi cambiando la postazione praticamente cambiare i percorsi di un NPC di una delle AI era una cosa molto innovativa per l'epoca ma anche le telefonate con il codec la donna ragazzi c'è le volte che puoi avere informazioni extra guarda questa cosa migliora di capitolo in capitolo fino a un certo punto in maniera io passavo le mezz'ora a chiamare tutti per sapere che cosa mi dicevano mi sono fatta delle risate sulla scatola appena mi sono messa dentro la scatola ho iniziato a telefonare a tutti per chiedere che loro parere sulla scatola c'è Nastascia che mi ha raccontato come è nato il cartone bellissimo c'è una cosa però che non hai fatto che non hai non hai retto almeno da quel che ho visto io che non hai fatto se provi a rompere le palle più di un certo di un tot di volte a mailing no mailing sì non hai insistito abbastanza no perché cosa faceva inizia a rispondere sempre uguale buona giornata snake io ho visto così ho smesso arriva a un certo punto che rimane imbronciata e non ti dice niente ti guarda male e compaiono solo i puntini cioè non ti dice niente vuoi salvare niente nulla e quando chiami quando richiude non puoi neanche più salvare no no lo puoi fare puoi salvare però puntini puntini poi salva non salva adesso per esempio da quello che scegli di nuovo faccio imbronciata puntini puntini ciao ecco mailing ho un grande punto interrogativo su di lei perché un po' di background di naomi è venuto fuori nastascia non so molto ah è figa e basta ok è solo carina easy è figa ok è la carina messa lì solo per far dire a solid snake oh sei molto più carina di quello che cioè non pensavo che ragazze così carine lavorassero pensatrice di poesie filastrocche di tavole esatto ok ci sta effettivamente beh dato che c'è un personaggio comunque che il mio preferito è chiamato otaku direi che ci poteva stare la ragazza asiatica carina messa lì per farti salvare effettivamente ha super senso a livello di meccaniche vi dico a parte queste qua che vi ho detto poi non ho trovato grossissime difficoltà all'inizio sì all'inizio è stato drammatico perché già che era tutto da fare in stealth non so adesso io quanti altri giochi stealth prima di questo c'erano non so nessuno praticamente se fosse una meccanica quindi dici anche è stato innovativo anche da quel punto di vista ha creato lo stealth genera cioè proprio l'ha creato lui è nato con metal gear solid non è virtualmente il primo videogioco definibile come tale ma il primo videogioco che ha creato il genera esattamente lui è il primo videogioco stealth canonicamente della storia ha creato il genera sì sì ha spondato tutto e poi con la cosa della scatola non so perché lui è serio cioè con Gima è serio però ogni tanto ci butta dentro ste goliardate no no ma c'è solo l'inizio goliardate cioè tu c'è l'easter egg del condotto di ventilazione con Meryl no l'easter egg del condotto di ventilazione aspetta che la guardavo che faceva gli addominali esatto eh sì gli addominali non le flessioni cioè aspetta come si faceva dovevi uscire rientrare più volte dal condotto è pieno di queste cose e lì quando ti riaffaccia a guardarla è in musante esatto non l'ho vista è pieno di cose è pieno di piccole piccole interazioni uniche se usi hai trovato la macchina fotografica? sì l'ho trovata ho fatto la foto al tipo che pesciava in bagno eh considera che se fai certe fotografie in certi punti poi scopri che ci sono dei fantasmi che sono in realtà gli sviluppatori no se no me non le sapevo ma che figata assolutamente sì adesso cavolo le voglio vedere me le devo recuperare a base mi devo fare una run in inglese perché prima stavamo parlando con frate il fatto che il doppiaggio italiano in alcuni punti ti rompe un po' beh sì la morte di Zeperwolf ho pianto lo stesso perché comunque i luciconi mi sono venuti spero se Otacon non mi avesse spezzato e poi appunto diciamo che anche lei che ti dice no perché io ho vissuto tutta la vita tra me si sarebbe quella parte lì da rifare ecco una roba su gola profonda però Grey Fox è incredibile come l'ho doppiato alla fine cioè il monologo si anche Liquid Liquid Snake si Solid Liquid anche Otacon in realtà tranne ti dico quei momenti dove rompe il climax si 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 ha solo dei momenti dove secondo me non ho doppiato benissimo però in generale fatto abbastanza bene i personaggi maschili sono fatti quasi tutti molto bene i personaggi femminili buona giornata sì ma no perché all'inizio Mei Ling io primo approccio col gioco proprio inizio a parlare con Mei Ling wow snake io ero lì tipo no aspetta guarda che poi in chat stanno citando altri easter egg nel senso che se tu guardi in prima persona Meryl lei arrossisce quello l'ho fatto quello me l'hanno fatto fare sì 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 quello me l'ha fatto fare e mi sa che quello forse è l'unico ah no ho anche però l'ho scoperto da sola l'easter egg dei lupi e dopo loro mi hanno detto mettiti nella scatola e allora mi sono messa nella scatola e i lupi mi hanno fatto la pipì addosso che carino esatto sì sì belli no però allora mi piacerebbe rigiocarlo in inglese più che altro per vedere magari ecco questi easter egg di cui state parlando e vedere il finale a questo punto con mi dicevi che c'è l'altro finale con Otacon devi comunque guardarlo poi te lo mando io così devi di spoiler grazie ti faccio un pacchettino per i due esatto i compiti a casa sì 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 ho detto che mi devi fare i compiti a casa prima di giocare il secondo capitolo lo preparo io grazie sì sì no ci tengo più che altro perché se vado a cercare ho paura di non farlo non per l'amor di dio no ci sono proprio cose che non devi vedere che non devi sapere io vorrei capire con Francesco come fai a fare le speedrun di quel gioco io all'epoca mi ero preparato per fare speedrun tra l'altro in extreme lì ci sono determinati punti che ti vengono in memoria muscolare anche perché se tu ti chiudi con Metal Gear Solid il primo cioè in un'ora lo te lo spari in un'ora un'ora e mezza un'ora e mezza più o meno in un'ora e mezza lo scoppi sì sì lo finisci lo finisci un'ora e mezza se sai come fare tutti i dialoghi però sì certo si si schippi tu vabbè sfideranno di skip skipando skipando tutto noi da piccoli lo finivamo in due ore quando sei bravo lo fai in un'ora e mezza wow madonna ragazzi c'è da dire che effettivamente se capisci come affrontare determinati combattimenti cioè ecco forse la difficoltà più grande di Metal Gear Solid è proprio capire capire come farli ha un sistema pure di shooting per dire un po' particolare se non ci sei abituato il fatto pure per dire del lo stinger la semplice pistola cioè per dirti che devi avere premuto quando molli spari e poi non so se lo sai perché non so se l'hai fatto se è stato necessario ma tu puoi puntare mentre corri in Metal Gear Solid sì però non l'ho mai fatto devi tenere premuto quadrato per andare in mira x con x inizia a muoverti ma vedi non lo sapevo inizia a spammare quadrato spari e corri eh vedi non lo sapevo io non leggendo la chat l'ho letta in pochissimi momenti della run appunto come ha detto Mike è una cosa che non ti spiega è una meccanica che scopri la scopri e ancora di più vabbè io di quello sono fissato probabilmente Mike no sento di no io sono fissato con i Metal Gear Solid VR Mission sia del primo che del secondo come no io li amo ah non si sapevo ma Mike ci dobbiamo fare una live allora Special Missions è un capolavoro Special Missions è un capolavoro aspetta di cosa state parlando sui capitoli a parte no hai presente il tutorial delle VR Mission del primo Metal Gear Solid forse le hai fatte erano letteralmente in options cioè tu puoi andare a fare un tutorial VR con non è vero VR per lui è come fosse un Metal Gear Solid a minigiochi esatto no io non l'ho fatta questa roba qua non so di che cosa parlate ecco perché spiegava perché ogni tanto veniva fuori sta roba del simulatore del VR però non capivo è vero che non capivo sta roba qua allora tu immagina dico no ma ci sono nella collection ah ok no perché c'era la collection per la playstation c'era appunto c'era il cd normale il secondo cd è lo special mission quello era integral nel senso che in realtà Metal Gear Solid è uscito con 10 missioni e basta che erano il tutorial del gioco quindi mi mancava il tutorial sì ti mancava il tutorial non hai fatto il tutorial che poi sbloccava è meglio così perché il gioco comunque te lo fa fare il tutorial ah non ha visto neanche il briefing ok va bene c'era un briefing no aspetta raga io non so niente c'è un briefing che ti fa vedere un spazzo iniziale in cui a Story Snake viene detto che missione deve fare perché Story Snake se ne stava bello tra virgolette in pensione in Alaska a farsi gli affari suoi è arrivato camper e gli ha fatto vieni c'è da fare roba e l'ha mandato a Shadow Moses e l'ha mandato a Shadow Moses poi c'è il tutorial missioni in questa augmented reality più il time attack se vuoi romperti il culo ma poi è uscita un'espansione chiamata special missions che per me è bellissima io ce l'ho perso più tempo su quello è bellissima è bellissima quindi mi conviene giocarmela prima del 2 non è allora a livello di trama non ti consigli da niente no non c'è niente però c'è una cosa che vorrei tu facessi che è solo il tutorial ti serve per un certo discorso si in Metal Gear Solid 2 vai nel menu principale c'è proprio tutorial VR mission ti fai solo non fare il time attack e poi ti ammazzi lo faccio dopo appena stacco con voi lo inizio si ci metti poco cioè le ultime sono un po' difficili però ci metti poco io ci metto tanto Mike mi sento molto scarsa con quel gioco no guarda cioè special mission secondo me ti diverti perché sono praticamente tu immagina mini giochi fatti a tematica per esempio armi sono tutte missioni lei non farà questo no no lo so solo il tutorial stavo spiegando cos'era il è bellissimo è bellissimo armi solo famas armi solo c4 e sono appunto degli stage su cui praticamente fai time attack poi c'è la modalità per dire misteri praticamente c'è un mistero da risolvere tu lo risolvi e devi individuare chi è il colpevole no bellissimo ok tipo Cluedo bello 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 una di quelle idee sono prese e usate in Metal Gear Solid 2 esatto sta roba è interessante dopo me la vado assolutamente a fare perché vedi io inizio sono partita subito col primo sono gli snaker in acqua esce da lì e subito bam missione il 95% delle persone fa così tranquilli ok assolutamente però voglio approfondire perché comunque una volta che mi capita di giocarmelo in blind in età adulta e posso capire bene tutte le connessioni ha senso farlo sì forse è l'unico bonus del giocarlo ora rispetto a quando eravamo bambini perché immagino che voi l'abbiate giocato da bambini sì certo che ne avevate quando l'avete giocato eh io sono dell'88 è uscito nel 99 tu l'hai giocato subito appena è uscito appena è uscito perché vedi io i giochi ad esempio non li giocavo subito magari li giocavo due o tre anni dopo io ho giocato per un motivo leggevo PSM e c'era la classifica del gioco dell'anno di PSM e io ero talmente infognato di Resident Evil 2 e dicevo vabbè vabbè vedo che al secondo vedo che al secondo posto appunto al primo Metal Gear Solid che cazzo è sta roba andiamo e e da lì si è partito no io invece mi ricordo sempre per via di PSM no per esempio PSM proprio PlayStation Magazine che ti ricordi ti dava il CD con le demo e c'era il il trailer di Metal Gear Solid e ho detto no ma sta cosa è fuori di testa il trailer neanche esistevano i trailer di videogiochi all'epoca c'era proprio ti faccio vedere il gameplay io me lo ricordo ancora sta su YouTube ancora quel quel trailer ma io lo vedi ma no ma sta cosa è futura porca miseria e lì ho detto me lo devo procurare per forza e vedi noi abbiamo avuto da quel punto di vista abbiamo avuto un'infanzia molto diversa videoludicamente parlando perché mentre voi stavate giocando a Metal Gear Solid io stavo giocando a Monkey Island Broken Sword Sacred sappi che Broken Sword è la mia avventura grafica preferita dai bellissime anche lì doppiaggio proprio di alto livello però origine autunno gli ultimi mesi dell'anno e la fine del millennio madonna ma perché Nicole George che cosa è successo George proprio la francese più stereotipata della storia dei francesi povera Nicole Collard però si vanno salata come le patatine bellissime e quindi adesso dai si entra in deep down con questa saga di Metal Gear faccio i compiti a casa come mi ha detto Mike adesso appena stacco la chiamata con voi ti mando cose ti mando cose esatto poi se mi mandi cose io poi appena stacco con voi inizio a farmi il tutorial il briefing e tutte le robine che sono persa così poi dopo le feste inizio il secondo capitolo io pensavo di farmi il secondo il terzo visto che ho preso la collection e poi a sto punto aspettare per il quarto perché non vorrei rovinarmelo più che altro mi dicevano è difficile da recuperare allora il fatto è questo il quarto capitolo è effettivamente oggi difficilissimo da recuperare perché io ce l'ho in originale perché io li ho tutti i Metal Gear in realtà fisici quindi dicevo con loro quello che ti posso dire però ti posso dire è che ormai tu sei nell'epoca d'oro per farlo perché non ti consiglio di aspettare la collection 2 ti vorrà almeno un anno per far uscire la collection 2 e che dir si voglia vista la collection 1 non è che è un grande sì non è che abbiano fatto cioè mi hanno detto che è uguale al primo praticamente quindi devono spingersi un po' di più quello che ti posso dire è che finalmente e solo di recente gira da Dio emulato ce l'hai originale fai lì io ce l'ho sì li ho tutti ah e allora si apposta lo emuli da Dio gira e quello te lo fai davvero bene ok no perché io lì cioè in realtà gli originali li ho tutti anche quelli su playstation infatti guarda te lo giochi emulato quello che ti chiedo è come stai facendo già con l'uno aspetta una settimana tra l'uno e l'altro sì metabolizzo ma sì ma tanto poi parliamo e così facciamoci una chiamata a ogni capitolo esatto quello che tu devi fare in ordine è Metal Gear Solid Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid 4 Metal Gear Solid Peace Worker e Metal Gear Solid V ok lo vuole avere quello su PSP sì io ne ho anche uno spero spero che ve lo faccio vedere perché non so qual è mi sa di sì lascialo lascialo lì dov'è sì ho anche ho anche questo che però non so forse ve lo apro che magari si vede meglio ah goddio Ghost Babel non so I Ghost I Ghost Babel ce li ho nella mia vetrina da collezione aspetta non vedo non c'è scritto solo Metal Gear non c'è scritto nient'altro ah era quello l'originale questo è proprio il primo sì sì quella è la versione NES del primo ah è perché infatti c'è scritto solo Metal Gear però la coppia mi sembrava diversa l'immagine quindi non avevo capito che era era un po' diversa l'immagine pensavo fosse uno spin off infatti dicevo poi ne ho uno per il DS mi manca se hai 3DS cioè hai Metal Gear Solid 3DS sì ok è il remake 3D di Metal Gear Solid 3 che tra l'altro include alcune meccaniche aggiunte nel 4 pensa un po' però non ti preoccupare gioca Metal Gear Solid 3 e poi hai detto il Peace Walker Peace Walker che dovrai questa è una cosa che ti obbligo a fare dovrai per sempre chiamare Metal Gear Solid 5 Peace Walker ok va bene quello è Metal Gear Solid 5 punto e tra l'altro neanche per scherzo ma poi ne parleremo un po' dietro e poi ora dovrai giocarti la Ultimate Definitive Konami Edition di Phantom Pain va bene ok tanto poi esatto poi vi richiedo vi richiedo consigli tempo al tempo tempo al tempo no guarda io purtroppo come ti ho detto per quanto riguarda eventuale mia presenza per commentare rimango sino al 2 i primi 2 me lo dicevi nonostante riconosco che probabilmente uno dei capitoli migliori sia il 3 e io si purtroppo non non ho adorato le meccaniche nel senso ti è piaciuto gli gameplay i primi 2 sono praticamente dei puzzle game camuffati da da gioco di lineare e quella cosa mi piaceva tantissimo cambia costantemente il gameplay sempre diverso sempre cose diverse e dal 3 ad andare avanti pian piano si è andata perdendo e purtroppo come cosa non mi è piaciuta solo questo però a livello ma tu non te li sei proprio cioè l'hai mollato lì no non li ho giocati ma non non li ho apprezzati non riesci a giocarli solo per la trama e per quello l'ho giocato ah ok no sei tranquilla tranquilla che non li giochi li giochi per la trama eh no perché per esempio io anche se spesso ero frustrata mentre giocavo il primo sono andata avanti perché volevo sapere come andava c'erano tipo lì ah perché la trama è talmente bella che comunque ti tiene lì anche se il gameplay ha una certa magari è difficile 25 anni dopo sai giocarselo adesso non è come giocarselo ah guarda non voglio essere antipatico con nessuno ma non ascoltare nessuna cronologia di giochi che non sia quella di release va bene? no ma io 1 2 3 e poi peace walker non mi ha neanche il sogno è la cosa più criminale che sia mai stata no io seguo sempre l'ordine di pubblicazione lo faccio sempre quando recupero anche con kingdom arts ho fatto la stessa cosa quando li ho giocati tutti me li sono fatti in ordine di pubblicazione perché se no vieni a sapere cose troppo presto cioè no a dire poco a dire poco a dire poco secondo me cioè c'è un motivo se sono stati pubblicati in quel modo secondo me c'è un motivo vedrai poi quanti e quale allora dai li facciamo così va bene ragazzi io vi lascio andare a mangiare vi lascio andare a cena visto che avete fatto anche old jam prima a questo punto fai le 10 missioni assolutamente sì io comincio a prepararti i compiti per casa va bene che bello sì mi piace grazie ragazzi siete stati fantastici grazie mille grazie Mike e allora ci risentiamo poi esatto allora aspetto aspetto i i compiti e poi ci risentiamo anche per il secondo capitolo yes lo penso di iniziare dopo le feste adesso metabolizzo un po' il primo brava ok alla prossima grazie ragazzi ciao un bacio grande grazie ancora ciao oh che bella chiacchierata ragazzi non vedo l'ora che Mike mi mandi i compiti mamma mia cioè frouse che in un'ora e mezza si fa Metal Gear Solid cioè secondo me lo devi sapere a memoria praticamente per riuscire a farlo in quel modo che bello spero che vi sia piaciuta questa bella chiacchierata perché poi la replicheremo anche per il secondo capitolo e è bello parlare con due super veterani del gioco mi hanno dato un sacco di spunti di riflessione interessanti tra cui anche il il fatto che il gioco è contro la guerra ma non contro le istituzioni militari possiamo dire ecco quindi bello il world record è di mezz'ora mezz'ora tutto Metal Gear molto interessante peccato viate saltato l'argomento Grey Fox ma in realtà non è che l'abbiamo saltato è che per il momento non credo ci sia molto da dire di Grey Fox cioè io non ho molte informazioni su Grey Fox e non credo che loro in questo momento me le potessero riempire cioè sicuramente possono riempirmele ma magari è spoiler quello che loro mi possono dire quindi di Grey Fox per ora io so solo che il vero Grey Fox è finito dentro a questa specie di robot e poi ha adottato Naomi dopo aver ucciso i suoi genitori e poi beh ha fatto un discorso finale bellissimo però non più di questo io non so non ho molte informazioni al momento su Grey Fox esoscheletro esoscheletro esatto all'interno di questo esoscheletro quindi c'erano poche cose di cui discutere su Grey Fox secondo me di Grey Fox hai tutte le cose che devi sapere eh esatto queste che ti ho detto questo è tutto quello che so di Grey Fox e appunto io sono stata molto molto contenta quando ho visto Solid Snake mentire a Naomi tantissimo contenta sarebbe stato devastante per lei se lui le avesse detto la verità e ho buttato un po' con la coda dell'occhio un'occhiatina appunto alla chat in quel momento e ho visto che molti di voi erano in disaccordo che dicevano no ma perché ma perché raccontare una bugia boh ragazzi allora diciamo che nel momento in cui Naomi non sa che quella è una bugia quella è la sua verità io ho un concetto molto particolare su no non particolare ho un concetto forse diverso dalla maggioranza della gente su bugie e verità secondo me spesso la verità è sopravvalutata nel senso che Naomi sarebbe rimasta distrutta dalla verità perché ha vissuto tutta la vita con quello che lei considerava un fratello e che le ha voluto bene perché lui le voleva davvero bene le voleva così bene che alla fine ha espresso il desiderio con Solid Snake di dirle la verità il fatto è che lei ne sarebbe stata distrutta da questa verità totalmente cioè vuol dire che tutta la sua vita ha amato comunque una persona che in realtà aveva ucciso i suoi genitori e che l'aveva presa sotto la sua ala solo per senso di colpa cioè ragazzi quanto può essere distrutta la tua vita da una verità simile quindi secondo me Solid Snake ha fatto assolutamente la cosa giusta dicendo a Naomi purtroppo tuo fratello è morto ti ha voluto bene ti voleva bene fino all'ultimo il suo pensiero sei stata tu e poi è la verità lui non ha mentito perché è vero che suo fratello le voleva bene e lei è stata il suo ultimo pensiero fino alla fine ha omesso il fatto che lui non fosse realmente suo fratello e avesse ucciso i suoi genitori perché lei ne sarebbe stata distrutta da questa cosa e probabilmente cioè già lo vedete che Naomi è un personaggio secondo me un po' a metà nel senso che anche lei è spinta dalla vendetta vuole vuole distruggere la vita di Solid Snake però a una certa sembra quasi innamorarsene perché effettivamente c'è il momento in cui lei gli sta per dire qualcosa e si interrompe la comunicazione fa tipo Solid io ti e si interrompe la comunicazione e secondo me voleva dire che si era tipo innamorata di lui o una cosa simile oppure ti voglio bene che poteva anche essere il punto è che Naomi la vedi che si fa un sacco di cose sbagliate frega fin dall'inizio Solid Snake però la vedi che comunque lo cioè lo fa ma non è spinta da un reale sentimento di vendetta cioè si forse all'inizio si però poi questa cosa si modifica cambia mano a mano che lei conosce sempre di più Snake la vedi che spesso tentenna continua ad andare avanti con il suo piano ma quasi non lo vuole fare quindi non lo so lei la vedo come un personaggio grigio non è non è né una villain né un personaggio buono è un personaggio secondo me grigio che sta un po' lì un po' embilico e in quel purgatorio no e ah raga non sto non sto cioè mentre faccio i miei monologhi sapete che non leggo no l'altro finale non l'ho visto mi piacerebbe farlo ha detto Mike che mi manda lui le cosine mi manda i compitini a casa così controllo e vedo delle cose che effettivamente non ho potuto approfondire qua le bugie sono illusioni se alcune nel breve periodo possono essere positive nel lungo si paga sempre lo scotto verità forever eh vedi io non sono d'accordo io cioè rispetto assolutamente la tua la tua visione della verità sempre io però non sono per la verità a tutti i costi non lo so secondo me ci sono verità a volte che preferiresti non sapere è per me per me esatto per me la verità tutti i costi per me la verità a volte è sopravvalutata perché se deve distruire se deve essere una verità che ti distrugge la vita preferisco non sapere vivrò all'interno di una bugia secondo me no vivrò all'interno della mia verità che non è necessariamente la verità universale ma è la mia verità perché nel senso se Naomi non sa che suo fratello non era davvero suo fratello e che non aveva ucciso i suoi genitori lei vivrà la sua verità del fatto che comunque suo fratello le voleva bene l'ha pensata fino alla fine e è morto pensando a lei appunto cioè che le voleva davvero bene lei vivrà questa sua verità la reale realtà dei fatti aggiungeva il tassello del non è davvero tuo fratello ha ucciso i tuoi genitori ti ha adottato perché aveva un forte senso di colpa verso di te in che modo questa verità avrebbe influito sulla vita di Naomi cioè stiamo parlando comunque di un personaggio che in quel momento è morto cioè perché Gray Fox lì muore quindi non lo so per me rimane comunque una verità anche quella è una verità alternativa diversa preferiresti essere cornuta felice o infelice vabbè allora aspetta ci sono allora non è la stessa cosa secondo me non puoi metterlo sullo stesso piano cioè essere cornuta vorrei sapere la verità semplicemente perché per me sarebbe molto semplice mandare quella persona a quel paese e dire ciao bello vado da qualcun altro un conto è essere cornuti e scoprire che ti stanno tradendo un conto è scoprire che tutta la tua vita è basata su una bugia perché tuo fratello non è davvero tuo fratello ha ucciso i suoi genitori i tuoi genitori cioè capisci che sono due cose su due piani completamente diversi una è una verità che totalmente ti distrugge la vita per me il fatto del ehi ti ha fatto le corna non è una verità che mi distrugge la vita è una verità che mi fa stare male sicuramente distrugge la mia relazione ma la mia vita può andare avanti e ricominciare in modo diverso quindi secondo me cioè io non sto dicendo che sia meglio mentire attenzione io ti sto dicendo che per me la verità a tutti i costi è sopravvalutata verità a tutti i costi intendo qualcosa che ti distrugge veramente la vita questo è il mio pensiero ci sono verità e verità il peso di queste due verità è soggettivo certamente certamente io se so che una persona mi tradisce non è una cosa che mi distrugge la vita personalmente cioè mando a fanculo quella persona e mi rifaccio una vita con qualcun altro certamente ci sto male soffro non è che sono sono di pietra però mi posso rifare un'altra vita un conto è poi per carità è soggettivo c'è chi magari scopre una cosa del genere e ne esce distrutto non io probabilmente non lo so non mi è mai capitato non lo so dovrei probabilmente trovarmi nella situazione e sappi che non lo so che il tuo ragazzo ti tradisce da tutta la vita e io sono tipo bella merda ciao c'è sicuramente ci sto male certamente però non mi lascerei distruggere da una cosa simile sarà che io mi voglio molto bene non lascerei mai un potere simile in mano all'altra persona di farmi così tanto male ok cioè addirittura distruggermi la vita però ripeto è una cosa estremamente soggettiva oh nel frattempo ci sono state un sacco di sabri sab adesso vi ringrazio tutti quanti comunque adesso ci giochiamo quella parte che mi diceva prima Mike e quella che diceva anche Fraus ci facciamo la parte in VR del briefing e dei tutorial che sono curiosa non ti lasci distruggere perché hai creato tu la tua libertà ci sono verità e verità io sono del team verità al caso specifico mi fa vacillare no? mi non vedrà mai più Fox l'unica cosa che può avere da suo fratello sono le sue ultime parole riferite da Snake tanti le cose in questo modo con tutta la soggettività del caso che cosa ha veramente importanza la verità a tutti i costi o un'omissione che però risulta in qualcosa di profondamente vero e costruttivo esattamente Federico è questo il mio punto per questo che ti dico allora tu come me non sei per la verità a tutti i costi perché tu dici io sono per la verità però dici però in questo caso ha fatto bene a mentire ma io la penso come te in linea di massima sempre meglio la verità ma ci sono casi in cui questo era uno di quei casi secondo me e poi c'è Truman Show vabbè è ovvio che lì lì vuoi sapere la verità in una roba la Truman Show sì ma anch'io dico team verità in generale ma certamente non credo che nessuno dica team bugia cioè non credo che esista qualcuno che voglia vivere all'interno di una bugia però ovvio sapendo sapendo quello che c'è dietro le quinte una verità che Gray Fox ha chiesto a Snake di dire a Naomi sì però probabilmente Gray Fox in quel momento era disperato e voleva regalare no voleva voleva che Naomi sapesse la verità secondo me era un atto un po' egoistico quello che ha fatto Gray Fox ti dirò mi sbilancio e ti dico Gray Fox che chiede a Solid Snake di dire questa cosa a Naomi è puro egoismo prima di morire è il io voglio che lei sappia la verità ma non la saprà da me la saprà da te tanto io sono fuori dal sono fuori dai giochi tanto io muoio quindi dille tu la verità ma tu sai che lei sarà male secondo me è stato molto egoista da parte di Gray Fox poi per carità sta morendo quindi non sai che cosa passa per la testa della persona che sta morendo però è stato bellissimo ecco io sono felice che Snake non abbia seguito il suo ultimo desiderio meglio così secondo me è l'ennesima scelta per togliersi un peso dallo stomaco io l'ho vista un po' così un po' come l'egoismo per dire ho ucciso i suoi genitori adotto questa bambina e le faccio da fratello perché mi sento in colpa e il mio senso di colpa è talmente grande che io voglio lavarmi la coscienza prima di morire è troppo comodo però sapendo soprattutto che distruggi la vita a Naomi con una verità simile quindi per carità non voglio dire che Gray Fox sia una merda affatto ripeto stava morendo in quel momento è stato il suo ultimo desiderio dire questa verità però è un po' troppo comodo ecco lavarsi la coscienza così anche perché non sei tu a doverla dire questa verità sarebbe stato Snake quindi secondo me è così povera Naomi sì abbiamo parlato di Metal Gear comunque adesso ci facciamo la parte dei VR intanto questo talk mi è piaciuto un sacco e torno a dire spero sia piaciuto anche a voi non vedo l'ora di fare poi la seconda parte col capitolo 2 visto che avremo più informazioni per farlo per ora abbiamo ancora solo le informazioni del primo capitolo